A te che sei entrato in questo video ti sto per avvisare che questa intro non ha senso perché solo qui tu potrai vedere un Giozzi che si siede, prende una banana e se la ingoia in un colpo. Alle mamme degli haters piace questo elemento. Ragazzi solo per questa prestazione il like è d'obbligo, cioè proprio voi adesso pam e lo schiacciate, dai eh! Ragazzi e benvenuti in questo video del vostro Giozzi sta. Oggi andremo a vedere in anteprima esclusiva la nuova macchina che ha rilasciato Epic Games. Ovviamente il prezzo è altissimo ed è sparato alle stelle. Questa macchina la potete trovare nei ritrovamerdi, vabbè nei ritrovamenti, quello raro, quello non comune. In questo modo è possibile trovare la macchina. Oppure potete trovare il progetto giocando delle semplici partite. Però dovete avere il culo quando è quello di Nicki Minaj. Detto questo, raga, vi avviso che era la prima volta che lo usavo. Ero alle prime armi e quindi è uscita ieri alle 9 e quindi non sapevo e non conoscevo le hitbox. Ma ragazzi vi giuro che questa macchina promette bene. Se ho fatto delle boiate diciamo che potete concedermela. Però, raga, questa macchina promette bene. Se dovessimo arrivare a 10.000 like io vi porto un altro video con questa macchina. Ve lo prometto, ve lo prometto. Prometto. No, no, ok forse no. Vi lascio al video, raga. E io vi ricordo che vi aspetto tutti i giorni in live dalle 9 del mattino fino alle 3. E la sera alle 19.000 perché la sera aspettiamo lo shop. Tra l'altro forse questa sera uscirà proprio questa Tigris nello shop. Chi lo sa. Raga, ve lascio al video e guardate di che macchina stiamo parlando. Oddio, l'ha trovata, raga. Allora, raga. Grazie mille Stupendos per il Prime. Se vuoi entrare nel gruppo dei sub fai punto escamativo. Gruppo. Adesso che sei abbonato hai diritto a numero di telefono. Gruppo WhatsApp. No, vabbè, gruppo dei sub. Il gruppo WhatsApp non c'è più. Ehm, richiesta d'amicizia. Il martedì giochi con me. Il sabato partecipi al torneo. E la domenica otterrai il doppio della percentuale di essere estratto nel giveaway. Non so se mi spiego. Non so se mi spiego. Andiamo a comprare la Tigris. Che è una macchina che è uscita ieri alle 9. Ieri alle 9 è uscita la macchina. E, raga, proviamola. È una macchina di una nuova serie. E non è mai uscita. Cioè, è proprio fresca. E ve la sto offrendo oggi, raga. Vediamo com'è. È tipo la Nissan Skyline. È tipo la Nissan Skyline. Non lo so che... Ma adesso la andiamo a provare, raga. La andiamo a provare, raga. Ci mette... No! Guarda dentro! No, ragazzi! C'è il doppio bocchettone come piace a me, raga! Ok. Madonna, quanto è bella, raga! Allora, le hitbox sono stra... Sono da capire le hitbox. È una cazzo di mattonella. Una mattonella arrabbiata. Grazie a Epic che hai fatto uscire questa macchina che somiglia molto, molto alla Skyline. Cioè, è proprio... È lei. È lei, raga. Allora, è bella. Il rumore è bello. È tutto bello di questa macchina. Gli hanno fatto il doppio bocchettone che piace a me. Per quanto riguarda le hitbox, sembrano quelle di una Skyline. Allora, a livello di hitbox, credo che siano fatte molto, molto bene. Cioè, nel senso, almeno per quello che la sto provando, la sto provando da pochissimo e credo siano fatte per bene. Ovviamente, sono passato da usare stamattina una Takumi, che è piccola, a una macchina del genere che ti fa gli scarti fuori di testa. Molto, molto, molto figa come scartino. Ok. È una sorta di rettangolo, ragazzi. Allora, secondo me tira delle stecche enormi e secondo me sarà pure usata, sarà utilizzata, raga. Questa macchina sarà utilizzata. A livello tipo... Non so in competitive, ma... Cioè, nel senso, io la utilizzerei. Che la utilizzerei? Ha gli spicoli belli. Ha il sotto bello, il doppio bocchettone. Non ha le toni che ti danno fastidio. Cioè, d'apparenza è pure figa. Solo un po' il davanti, ma tanto il davanti non lo vedi. E... Guarda, le hitbox sono fatte bene. Raga, e... Wow. Cioè, wow. Davvero, vi giuro, raga. Ehi, dove vai? Lack. Non male, ragazzi. Che cacchio è Epic Games? Mi ha sentito, raga. Perché io avevo detto, non è giusto. Perché ci sono... Magari ci sono persone che hanno la Skyline. E... Cioè, questa è la Skyline, raga. Quanto costa questa macchina? Attualmente tantissimo. Io l'ho pagata 2000. Però attualmente costa veramente tanto. C'è gente che la vende addirittura 5000. È normale, ragazzi. È uscita ieri alle 9. E... Però, raga. È molto, molto solida come macchina. Tac. Cioè, la vedo bella piazzata. È potente. La sento potente, raga. Devo solo impararla ad usare. Mo' la proviamo in volo, raga. Vediamo. Vediamo pa. Ehi! Dove mi porti, Giacomo? A casa. Spooky. Capete pop e poppy. Mamma mia, quant'è solida nel kick-off, raga. È veramente solida. Puttana miseria, se è solida. Guardala. Cioè, nei contrasti... Nei contrasti trotterella, raga. Tepe, tepe, tepe. Oh! Yo! Top! 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 Bambolina. Uh! Signori! Signori! Ragazzi! Comunque, sì, secondo me uscirà nello shop, ragazzi. Uscirà stasera alle 19. Cioè, stasera alle 19 sarò in live su Twitch. E lo... Cioè, sicuramente... E dico sicuramente, raga. Aspetteremo lo shop e vedere se esce questa. Vi immaginate la fanno uscire già bianco titanio? Vado in pazzisco. In pazzisco perché avrei speso 2000 crediti, così. Dal nulla. Per far uscire questa macchina. Quindi, magari... Comunque, sì, alle hitbox ibride. Quindi, quelle della Skyline, raga. E infatti... Cioè, il problema è che, a differenza della Takumi... Adesso mi sono abituato al recupero della Takumi, raga. Cioè, guarda, ci mette un anno e mezzo a girarsi. La Takumi è impestata. Vediamo, raga. Questa è goal? Immaginavo. Quindi abbandonano la Takumi? No, ragazzi. Non ho detto che abbandonano la Takumi. Raga, io se provo una macchina è perché appunto è appena uscita. E voglio provarla. Non ho detto che abbandono la Fennec. Cioè, è come quando esce una nuova skin su Fortnite. Quando esce una nuova skin su Fortnite, ti piace e roba del genere. Questo è un po' diverso perché ogni macchina ha il suo perché. La Takumi è una bellissima macchina. Cioè, mi piace tantissimo. Questa qua... Questa qua ha del potenziale enorme. Cioè, secondo me questa macchina è popo forte. Questa macchina è popo forte. Per chi ama le hitbox ibride. Per chi ama questo tipo di hitbox. Questa macchina è fortissima. E come... Se non avete la Skyline, questa è la macchina. Solo che se dovessi scegliere tra questa e tipo, che ne so, la Takumi. Attualmente ti dico Takumi perché mi sono subito innamorato della Takumi. Però questa qua a livello di forza la vedo molto più solida rispetto alla Takumi. Cioè, guarda lì. Con la Takumi non fai sti tiri. Cioè, guarda. Pure i contrasti. Contrasti qui. Non ho fatto né speed kickoff. Volevo provare a fare questo contrasto qui. Non ho fatto né speed kickoff né fast. Sono andato dritto per dritto, regà. Guarda lì. Madonna, gliela. Sto trapanando. Cioè, me la sto scoppando la... La... La traversa, regà. Vedi, pure nei contrasti c'è. La Takumi... Se ne vola. Questa qua ti fa volare. È diverso. Ho provato il dodge più bump e non mi è uscito. Quindi stasera... La aspettiamo. Vedi, pure questo. Con la Takumi, questo... Questo colpo... Cioè, questa parata... Non l'avrei mai fatto. E sarà usata. Sarà usata, regà. Questa macchina sarà usata. Altro che... Fidatevi. Non è come tipo... Che ti posso dire? La Ford che non se le incula nessuno. Questa macchina sarà... Sarà usata. Non male come macchina. Non male. Non male. Sì. Bella, 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 bella. Brava, brava Epic Game. Ho fatto uscire una bella macchinina. Molto bella, regà. Quindi, valutazioni della macchina. Ha degli spigoli buoni. Ha delle hitbox sublimi. Gli hanno messo delle hitbox ibride. Molto probabilmente. O ibride o Dominus. Ma sicuramente ibride. I bocchettoni dietro... Sono fantastici. E il doppio bocchettoni è quello che piace a me. L'alettone non dà fastidio. Il tettuccio è perfetto. E, regà, è tutta bella. Solo un po' il davanti è brutto che sembra un carlino. Ho visto quelli là che stanno tipo... Carlino così. Però per il resto è fighissima, regà. È veramente figa.